In chimica e in biologia, lo studio della forma delle molecole riveste un'enorme importanza per capire e prevedere il loro comportamento ed alcune delle loro proprietà chimiche e fisiche. Si può ricavare in modo teorico e approssimato la geometria molecolare dei composti utilizzando il modello WSEPR. In inglese è un acronimo che sta per Valence Shell Electron Per Repulsion, e cioè Repulsionamento delle coppie di elettroni del guscio di Valenza. In poche parole, il concetto che sta alla base di questo modello è quello di considerare come delle nubi elettroniche, sia gli elettroni che costituiscono i legami, sia quelli che fanno parte dei cosiddetti doppietti liberi. Queste nubi elettroniche, essendo tutte cariche negativamente, tendono a rispingersi e ad orientarsi il più distante possibile l'una dall'altra. L'arrangiamento dei doppietti elettronici è tale da massimizzare la loro distanza reciproca. Per disegnare la struttura geometrica di una molecola, secondo la teoria WSEPR, basta eseguire due semplici operazioni. Prima fase, si disegna la struttura di Lewis della molecola e si contano le nubi elettroniche che circondano l'atomo centrale. In pratica si sommano i legami e i doppietti liberi. I legami doppi e tripli vengono conteggiati come quelli singoli, dato che non ci interessa il numero degli elettroni, quanto piuttosto il numero delle nubi elettroniche coinvolte. Seconda fase, ipotizzare la forma della molecola, partendo dall'assunto che le nubi elettroniche tenderanno a disporsi il più lontano possibile. Il numero di coppie di elettroni, sia quelli legati, sia quelli formanti le coppie solitarie, si chiama numero sterico. Ad esempio, nel metano, CH4, il carbonio forma quattro legami con altrettanti atomi di idrogeno. Il numero sterico sarà quattro. Il numero sterico è associato anche con il tipo di ibridazione a cui è soggetto l'atomo centrale. Ad esempio, se il numero sterico dell'atomo centrale è 2, l'atomo centrale è ibridato sp, se è 3 è ibridato sp2, se è 4 è ibridato sp3, se è 5 l'atomo centrale è ibridato sp3d, se è 6 l'atomo centrale è ibridato sp3d2, se è 7 sarà ibridato sp3d. Quando il numero sterico è 1, ovviamente la molecola è lineare, ma lo sarà anche nel caso in cui il numero sterico sia pari a 2. In quest'ultimo caso, l'atomo centrale sarà ibridato sp. Le nubi elettroniche sono dirette dalla parte opposta l'una dall'altra e formano un angolo di 180 gradi. Con numero sterico pari a 3, l'ibridazione dell'atomo centrale sarà sp2. Possiamo avere due casi. Se gli elettroni sono tutti impegnati nei legami, avremo una molecola con geometria trigonale planare, detta anche triangolare planare. Gli atomi periferici si dispongono a 120 gradi l'uno dall'altro. Sempre con numero sterico pari a 3, possiamo avere due coppie legate e una coppia solitaria. In quest'ultimo caso avremo una geometria angolare. Quando il numero sterico è pari a 4, l'ibridazione dell'atomo centrale sarà sp3. Le nubi elettroniche saranno dirette ai vertici di un tetraedro e formeranno angoli di 109,5 gradi. Se è presente un solo doppietto elettronico libero, la molecola avrà la forma di una piramide trigonale. Se invece sono presenti due doppietti liberi, avrà una forma angolare. Quando il numero sterico è pari a 5, l'atomo centrale è a ibridazione sp3d. Le nubi elettroniche saranno dirette verso i vertici di una bipiramide trigonale. La bipiramide trigonale ha due tipi di vertici, tre vertici equatoriali e due vertici apicali. Questi ultimi formano un angolo di 90 gradi rispetto al piano equatoriale ed un angolo di 180 gradi tra di essi. I vertici equatoriali presentano un angolo di 120 gradi l'uno dall'altro. In presenza di doppietti liberi abbiamo tre casi. Un solo doppietto libero conferirà alla molecola una forma tetraedrica irregolare. Con due doppietti liberi avremo una molecola a forma di T. Tre doppietti liberi daranno alla molecola una forma lineare. Quando il numero sterico è pari a 6, l'atomo centrale è a ibridazione sp3d2. Le nubi elettroniche sono dirette ai vertici di un otteedro e presentano un angolo di 90 gradi l'una dall'altra. Con un doppietto libero la molecola sarà piramidale quadrata. Mentre con due doppietti liberi sarà planare quadrata. Con un numero sterico pari a 7, l'atomo centrale è a ibridazione sp3d3. Le nubi elettroniche saranno dirette verso i vertici di una bipiramide pentagonale. Con un doppietto libero avremo una molecola a forma di piramide pentagonale.